Inter è terza a 30 punti, la Juve è seconda con 31 e il Napoli è primo con 32 Just ma secondo te l'Inter è da scudetto? Finalmente rispondo a questa 90 che molti mi hanno fatto ultimamente Soprattutto adesso che è arrivata la pausa delle nazionali Che tra l'altro piccola parentesi che se bisogna vedere questa nazionale è meglio che la pausa non ci sia Chiusa questa parentesi Just secondo te l'Inter è da scudetto? Allora ragazzi io ve l'ho sempre detto che quest'anno secondo me ci saremo divertiti tantissimo Se andate a vedere i video vecchi quando è appena arrivato Spalletti Vi ho sempre detto che quest'anno secondo me ci saremo divertiti L'Inter ci avrebbe fatto divertire quindi tutti noi tifosi ci saremo divertiti a guardare l'Inter Per il momento vi dico che sì Per il momento sì l'Inter ha tutti i numeri per poter essere da scudetto È vero che ancora Spalletti secondo me non ha fatto vedere tutto il massimo dell'Inter Perché più andremo avanti e più vedremo un Inter bella Un Inter di Spalletti perché Spalletti è sempre stato riconosciuto che fa bel gioco Per ora non vediamo un bellissimo gioco ma vediamo un Inter che è squadra Quello che Spalletti ha detto sempre che quest'anno soprattutto i prossimi anni se si sarà Spalletti L'Inter deve essere squadra Per il momento è squadra assolutamente C'è qualcosa da migliorare ma per il momento è squadra Vi dico che per il momento sì perché? Perché l'Inter i giocatori ce l'ha Cioè non abbiamo nulla da invidiare a nessuno Solo forse anzi sicuramente alla Juventus che ha una squadra titolare fortissima Ha delle riserve fortissime Invece noi abbiamo dei titolari molto forti E delle riserve che lasciano un po' a desiderare Però con Spalletti secondo me a gennaio Se mettiamo a punto qualcosa quest'anno possiamo veramente rompere le scatole Invece il Napoli secondo me è al nostro livello Assolutamente perché Icardi è fortissimo Non ha nulla da invidiare a Mertens sono due giocatori diversi Ma sono due giocatori fortissimi Questo senza ombra di dubbio Perisic abbiamo Perisic e loro hanno Insigne Perisic è vero che è molto discontinuo qualche volta Però Perisic ragazzi è il top player dell'Inter E su questo non c'è dubbio Loro hanno Kayekon Noi abbiamo Candreva Forse su questo sono meglio loro Anzi sicuramente Kayekon è più forte e più giovane di Candreva Però Candreva soprattutto ultimamente non sta giocando un brutto calcio A centrocampo diciamo che più o meno si equivalgono Diciamo di sì Non abbiamo Borca Loro hanno Giorginio Quindi più o meno ci sta Diciamo che sono alla pari il Napoli e l'Inter Almeno secondo me Noi abbiamo Andanoic che è molto molto più forte di Reina Cioè senza ombra di dubbio Il nostro portiere è molto più forte del loro Quindi sicuramente non abbiamo nulla da invidiare a nessuno Forse solo alla Juventus E per questo vi dico che noi quest'anno ci divertiremo incrociando sempre le dita E per me per il momento se nulla succedono disastri Siamo da scudetto Assolutamente In Champions ci dobbiamo arrivare per forza quest'anno Perché se no mi arrabbio troppo A meno che non succede un disastro Quest'anno ci dobbiamo arrivare per forza Però sinceramente Quelli che dicono Eh ma tu punti allo scudetto Ma ragazzi cioè Ma siete interisti O prima tifavate il Chievo E siete venuti a tifare l'Inter Cioè l'Inter deve sempre E comunque puntare allo scudetto Poi se non ci arriva Non è un fallimento Perché comunque gli ultimi anni hanno dimostrato Che stiamo facendo ridere Però se ci arriva Non è che è un evento Oddio l'Inter ha vinto lo scudetto incredibile No Perché la nostra storia abbiamo sempre vinto Mi dispiace per i tifosi del Napoli Ma se lo vince il Napoli è più eclatante Perché per la storia hanno vinto poco No? Non è esso un attacco tifosi del Napoli Però è la verità È esso perché il Napoli ultimamente Sta facendo bene negli ultimi anni Quindi se vince lo scudetto Ha vinto lo scudetto Complimenti sicuramente Per carità Però Cioè se lo vince l'Inter Sicuramente dicono Mamma mia C'è del casino È eclatante se lo vince l'Inter E invece no Su questo non sono d'accordo E vi dico la domanda Per il momento l'Inter è da scudetto? Sì Vi dico di sì Fatemi sapere voi cosa ne pensate Se l'Inter per il momento È da scudetto oppure no E lasciate un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto Sempre forza Inter E amala Sempre e comunque Andate a vedere il video di oggi Che mi sa che non sono arrivati alle fitte Spero che arrivano anche a questo Se no ve lo devo ricaricare domani Perché non si possono fare così poche visual Perché voglio che i miei video Li vediate voi scritti No? Bella